Amici, proviamo a fare il culo a ballo. Potrebbe essere l'ultima parte come potete semplicemente aver fatto un po'. Noi... proseguiamo. Per non dimmi che di quelli che piavono. Sto cercando la cosa più vicina, tu. Merda. Eh, ma... lui è storico, se si gira... No, lo vedo. Dai. Così. Bene. Dai. Bene. Adesso ti manca un cazzo di niente, eh. Ok. 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 Dimmi che piavono della malattia, magari. E ora ne ne c'è il sito proprio. Ok. Eh, vabbè, ma che isto... No. Ok. Ok. E' più vicino a qua me. Credo quella. Ok. Puttana di merda! Oddio santo! E' più vicino a qua. E' più vicino a qua. E' più vicino a qua. Ok. E' più vicino a qua. Ok. Ti rialzi ancora? Sì. Sì, ma non vedo un cazzo, non vedo. Ok. Mia moneta. Ok. Merda! Eh, vabbè, ho capito, ma... Se tu spai e basta, io come ti picchio? Tutto è quella merda blu che non... No, non è fatto in tempo adesso. Dove cazzo è? Ce n'è uno lì. Sì, ma una volta non lo prenderò mai. Esatto. Ok. Dai. E' lì, eh? E' lì, eh? Sto sbagliando. Però... Che è questo? Bella! No, è... Dai! No, è due, è un floppio forte, è un mio. Ok Allora devo spararlo per forza in aria, mille No, troppo, troppo Ho l'ansia No, sono morto Ok È tipo la mia ultimissima possibilità Lo passo, dai Devo rifarmi tutta la boss fight Dai Cazzo No Poco 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 Ora No È ancora poco Ma puttana è qua Forse mi aiuta Ovviamente la moneta Ok Ce n'è uno lì Va bene No No Nica non lo becco Ma Era ovvio Era ovvio Ho buttato troppi tentativi Cristo No No Mi orta il cazzo Via Ok vabbè adesso siamo più al centro quindi non ho perché ho mai uno no sì vabbè ho capito ma dai no ah minchia l'hai fatto comunque vabbè io ci provo e niente a parte che l'ho preso no stavolta non lo fai ok no è caduta ma cristo santo no vuoi ok ok adesso se lo manco anche da qua mi mi chiudo da solo in un armario ok ok dai tentativo 1 andata a puttana poi tentativo 2 benissimo dai puttana era lì vedo come cazzo potevo saperlo ok dai questo non è vero sono due coglioni quando cade perché ebbè certo non è vero chiamo lì lì vabbè lì lì No. Ah, i miei pieni coglioni, è un discone non è vero. Scusa, ma le mie preziosi monete? Ora che servono non arrivano? Eh, vabbè, ho capito, ma... Vaffanculo, veramente, vaffanculo. Non mi ha dato una moneta quando serviva una. Adesso che sono molto ne ho visto, vaffanculo, veramente. A te, chi ti ha messo al mondo? Non so se sei in pieni coglioni, ora ne... Da! No, vittì! No. 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 No, niente! Oh! Cristo! Vabbè che tanto adesso, non lo beccherò mai, perché è tutto troppo lontano, quindi... Anzi, ho fatto pure danni. Anzi, ho fatto pure danni. Anzi, ho fatto pure danni. No, è incredibile. No, veramente. Ne ho pieni coglioni di qua... Di tutto. Non ho fatto niente, Dio. Non ho fatto niente. No. Niente. E' incredibile. No, niente. E' incredibile. No. E' in... Davvero. Non puoi averla lanciato comunque. Io devo per forza giocare a contare i suoi. No, non vedo un cazzo. E' anche adesso. Beh, ovviamente l'ha lisciato. Certo. Cioè, non puoi. Ovviamente è rimbalzato ed è morto. Certo. Non puoi averciato niente, guarda. Niente. E' anche la mia? Non puoi averciato niente, guardo. Voi averciato niente. Niente. E' già di più. E' ancora meglio, la mia? No. Oh, Titi. E uno è andato. No. No. Bene. Oh, è lì davanti. Ma quanto muoio di nuovo? Non è che... Oh. Siamo di nuovo alla terza. Stessa fase. Bene. No. Ovviamente ora che sarà uno delle monetine. No. Vedi che non si può fare. Eh. Ce n'è uno lì. Ce n'è uno lì. Oh. Oh. Niente. Oh, è troppo forte. Oh, è troppo piano. Mamma mia. Si può fare. Oh. No. Eh. Ah. Eccolo. Non neanche una moneta. Certo, le monete solo quando non sono, le monete solo quando sono a posto, mai in occasioni utili. Ma che cazzo fai? Cioè qui ci sono 20 minuti, capito? 20 minuti! Non ne posso più, ha smesso di essere divertente al secondo tentativo, anzi non è mai stato divertente. Vabbè dai, ma che cazzo è? No, l'ha ovviamente disciata. Vabbè dai, non sono le fai... Non so che cazzo fare, vabbè, ti ha capito? Adesso lo mettono mai. Ovviamente l'ha lisciato. Ah, ora, è lì. Non gli andava, va bene. C'è capito che altre volte ha funzionato e questa volta no. Per chissà quale cazzo di motivo. Dai! Di nuovo a terza fase. Ok. Tanto non c'è mai a copiare quelli. Vabbè, stavolta è un pubblico cannato. Poi tu fai le cose una volta fanno bene, fai le cose due volte muoio. È giusto. Ma che cazzo è un pubblico? Oh, non mi... Oh, non mi... Vabbè! Bé, bè! Bene, e il primo motivo, ovviamente non è andato, perché sperarci, non do di mica ho fatto lì così giusto. Bene, è andato anche il secondo. Dove cazzo lo tiro qui? Eh, lì per forza non è un domicile. Ti ha capito che però se lo tiro qui in alto non va bene, se lo tiro qui in basso non va bene, se lo tiro centrale non va bene. Cazzo che devo farvi della mia vita? Ti ha capito? No, sei chiaro! Sìììììììììì! Ti ho veramente sconfitto! andiamo a salvare l'astronza non osare farmi muovere ok mario mario il potere delle stelle è ristretto per il castello e tutto grazie a te grazie mario questo è il massimo che otterrai mario sappiamo che lenta agonia amici che lenta agonia amici mi ha amato quanto ti ho odiato non sono riuscito ad apprezzarla appena un po' perchè non è proprio dai miei gusti un po' per questo e un po' anche per il fatto che cazzo la Nintendo non ha fatto nessun tipo di lavoro su questo ora non so Sunshine Galaxy lo scoprirò adesso però non ha fatto nessun tipo di lavoro letteralmente nessuno che ha preso quello che era su Nintendo 64 l'ha vomitato su una schierina per Switch non ha fatto niente niente è al limite dell'essere inaccettabile soprattutto considerato il costa a cui viene venduto cioè cazzo non basta la qualità in sé del gioco capito? Cristo perchè non è stato svolto letteralmente nessun lavoro cioè è ancora in quattro terzi non dico fare come la insane trilogy capito? No anche se va bene non vuoi fare un remake va bene però almeno fai sì che sia un pochino più curata cazzo cioè era più curata la versione per Nintendo DS uscita 15 anni fa che questo che è del 2000 e 21 se non sbaglio non so ecco l'avessi pagato mi sarei sentito tanto preso per il culo davvero? parca la quale non siamo mai privati mi sarei davvero sentito tanto preso per il culo perchè perchè questa è una truffa legalizzata per meno che veniva venduto a quanto era? 80 euro? che è? folia folia quel todo è nostalgico che è Bene. Ah, non. Niente è casciato, amici. Non va più da nessuna parte. Ah, ok, non mi riparo che da sto fusi. Non va più da nessuna parte. Hello? Degna conclusione.